ciao ragazzi sono venuto per uno di questo video e sono tornati su un epic no vai a forza di epic parto il secondo così nemmeno allora stickman warriors 2 ho deciso di rifarlo da capo e di farvi vedere tutto dall'inizio richiesto a 3 dei livelli forse come per lo più quando non si riesce a completarlo allora è più facile così mi conviene dire più conviene più portare i livelli che ce la fai i livelli che non ce la faccio li faccio solo io e li saltiamo e poi forza bisogna fare 4 5 livelli perché sono veloci i vestiti veri sono tutto quindi soli da prassi guarda qua se riusciamo a tornare in giù vai fuori guarda che questi sono salvati guarda che sto parato next va 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 sempre ed shot ed shot però va vabbè ed shot sempre con un colpa la testa quindi quello ci potete non colpa la testa vai ma quanto sembra qua quattro c quattro c questo gioco è ignorante quel gioco ma è carino io ho giocare al primo quello come dai puoi uno ah dai ah non muore ah 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 tess e tess non c'è ma come cazzo ho vinto aspettiamo che palle ah 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 queste non volevate futtermi e io furi uno furi due e io furi tre furi uno questo potrà fare così metto le palle in testa guardate io vorrei fare in testa vai non mi riesco a uscire ma come ne frega se ne parla in testa però mi sto cadendo qua ma perdo perdo come cazzo? come mi sono salvato? no no non c'è andato addosso metto nell'acqua ma da poco alla volta non ci diamo wow vaffanculo che culo che ha avuto questo mettiamo le palle in testa e poi ci scappiamo ma che sta creando qua fuori due fuori tre l'ultimo eh 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 si mette così bobo eh 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 è carino facciamo l'ultimo dai con la mazza non è una piccola del culo la sua mazza ah no basta questo gameplay usci alle tre no questo gameplay qua usci alle sei alle tre invece riporto ehm l'avventura di l'altra avventura di come si chiama? Skyforge ma lo so a fine non ci vuole 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 sa così come sto io Ho fatto 6.000 Ragazzi a due mazze Oh e sta parlando tutti Ma vabbè uno Ho perso Tecnicamente un'acqua Ho detto che ci cascava Tecnicamente un'acqua Ho detto Tecnicamente un pezzo di mezzo Wow come cazzo ho vinto Wow faccio così Fai così Wow ti mettevo le palle in testa Tecnica dell'acqua Wow come cazzo Select river Bene ragazzi da di cui è tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi